Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Il mondo è stato liberato un potere che ha devastato tutto e tutti, però alcuni guerrieri erano stati messi in alcune capsule e quindi noi siamo uno di questi e dovremmo trovarne altri. In sintesi è questo l'inizio, ma il mondo è questo, il gioco riprende alcune delle meccaniche di Valheim, ma fa pensare anche un pochino a Zelda. Dal Zelda me lo fa pensare semplicemente per il fatto che arrivate in dei luoghi, questi luoghi hanno un nome ed è un mondo creato a mano, non è procedurale. Qui c'è sempre la dieta riba, meglio procedurale, sempre diverso, ma in alcuni casi secondo me è meglio anche un mondo fatto a mano, perché un mondo fatto a mano significa un mondo pieno di segreti. E quindi se io vado lì dietro, sicuramente dietro ci sarà un tesoro o qualcosa, o magari mi perdo dietro un angolo buio e trovo delle cose nascoste. Vi voglio far vedere come funzionano le meccaniche base del gioco. Vi basti sapere che allora col tasto V si può craftare a mano, quindi delle cose base, e andando invece al tavolo da lavoro, che è questo, se ne craftano altre ancora. La cosa interessante è che la costruzione della casa è molto semplice, seppur non immediatissima, perché voi dovete prima andare a costruire il materiale da costruzione e poi i materiali, blocchi di pietra, blocchi di legno e poi i blocchi per tetto, in questo caso ho fatto quello con la fibra vegetale. Una volta fatto questo, impugnando il nostro martello che vedete qui sotto il tasto 5, premendo il tasto tab, si entra in questa modalità che ci permette di costruire. E costruire, vedete con altri, io posso aprire questo menu e andare a scegliere quale di questi, e soprattutto, vedete, scegliere col 4, 5, 6 la forma. E ci sono delle forme da 2 metri, che sono quelli medi, 4 metri, che sono quelli case grandi, tetti di 2 metri, tetti di 4 metri, e strutture per il terreno, iniziato con le fondamenta. Però è una costruzione libera, infatti vedete che adesso se io vado a, mi fermo qui e vado a piazzare questo, non diventa verde, perché in mano dovete avere, non diventa verde, ma in realtà azzurrino, ma non me lo fa perché dovete avere in mano i materiali da costruzione che avete creato. In questo caso, vedete, sono questi. Io li posso prendere, e in questo caso, andando nuovamente qui, vedete che diventa azzurro, quindi io posso andare ad espandere. È molto facile come costruzione, è molto immediata, e col tasto tab che possiamo ruotare, ed è, dà le sue soddisfazioni e lascia parecchia libertà. Questo, ripeto, è solo l'inizio, e vi faccio vedere solo quelli che sono le prime minuti, le prime ore di gioco. E vabbè, in sintesi, quello che voi troverete in futuro da fare è, premendo il tasto, vedete, V, vi esce questo che vi dicevo, era crafting, con la B accedete all'inventario. L'inventario è diviso in due toolbar, alternabili con alta, e avrete, il gioco vi farà fare questo bastone per l'evocazione. Il bastone per l'evocazione vi consente di andare, adesso scusate che vi faccio vedere con N, no, vabbè, in sintesi con N voi potete evocare uno di questi superstiti, che sono quelli che le missioni vi faranno recuperare, superstiti di quelle capsule. In questo caso io ho recuperato lui, che è il fabbro, posso riposizionarlo come voglio, quindi volendo lo posso mettere anche qui, e praticamente lui ci permetterà di, parlandoci, usando determinati materiali, di craftare una forgia, e la forgia inizierà a farci, e grazie a lui comunque parlandoci, potremmo andare a creare, vedete, in questo caso, la carbonaia anche, oltre che la forgia, i chiodi, il grimaldello, e delle armi, e dei set di armature. Vedete che ci sono tutti i vari pezzi. Ovviamente ci saranno molti altri personaggi da sbloccare con le missioni, e quindi potrete fare oggetti anche per una ranger, un mago, e così via. Ho trovato una bacchetta del mago, che vedete spara, mentre invece i bastoni, che non ho ancora, permettono di lanciare incantesimi, ma ovviamente al costo di mana, e al costo di proiettili, che dovremmo avere, proiettili magici, ovviamente, quindi non è illimitata come la bacchetta. La cosa molto intrigante è che la mappa è enorme, assolutamente enorme, ma soprattutto è costellata di queste zone a volte ammantate. Ecco, qui dentro, una volta entrati, resisterete 5 minuti, salvo trovare magari qualche punto dove non è tutto annebbiato, o troverete delle eclesidere che vi permetteranno di ripristinare il timer. Queste sono le zone corrotte da quel famoso incantesimo che vi ho detto prima, ma dentro queste zone si trova il loot più bello. Il mondo ne è disseminato, quindi dovremmo fare attenzione. E una delle due, in realtà, delle prime cose che vi sarà utile fare sono questo, l'aliante, che sarebbe la tuta l'area, in sintesi, che adesso non posso usare perché ovviamente non sono in alto, e il rampino, in questo caso vedete che ce li ho entrambi. Per farli, praticamente, si fa il tavolo da lavoro e si va a creare, appunto, col banco da lavoro si deve ottenere, nel caso dell'aliante, del legno, del manto legno, pelliccia animale, corda e spore del manto, il rampino, scarti metallici, corda e spore del manto. Allora, quello che hanno in comune i due sono le corde e le spore del manto. Allora, le corde, semplicemente, voi correrete intorno, recuperate, premendo il tasto E o il tasto del pad, da questi cespugli, quelli senza bacche, vi danno le fibre vegetali, poi premendo il tasto V, quello del crafting, vi create la corda col tasto spazio e lì vi fate le corde. Mentre, invece, per quanto riguarda le spore, queste spore qui le ottenete uccidendo mostri e lutando all'interno della nebbia. la stessa cosa la ottenete con il legno, il manto legno e gli scarti metallici. Scarti metallici li ottenete demolendo nemici ma soprattutto strutture in metallo all'interno di zone che non sono queste, insomma. Quindi, più o meno, abbiamo la base. La pelliccia animale, invece, la si ottiene vagando in questa zona iniziale perché noi, praticamente, mi pare di ricordare che si parta da lassù, la trovate semplicemente andando a con la bacchetta. La bacchetta l'ho trovata lutando in giro però in pratica andate a ma volendo vi potete avvicinare anche stelta. Comunque, quando li abbattete vi danno tecnicamente carne e ecco, oppure questo. Ok, si luta anche lui e ci dà ok, va bene. Altra cosa importante da fare che vi spiego molto in breve il fatto di dover mangiare non è una necessità nel senso che mangiare come su Valheim vi dà un buff un buff nient'altro quindi potete anche non mangiare ovviamente è consigliato mangiare come lo si faceva appunto su Valheim perché i buff sono importanti e allora vi faccio vedere qua fuori non ho il fuoco ve lo faccio vedere qua dentro io posso andare a equipaggiarmi vedete in questo caso ho preso con alt ok uno di questi lo tengo e quando cambia colore la carne è pronta ok se no brucia e diventa carbonella praticamente ora andando col tasto B posso andare a mangiarla e ho il mio primo bonus in alto a sinistra vedete che ho il primo posso andare a mangiarmi qualcos'altro vi mangio queste bacche ho il secondo bonus e posso mangiarmi che il fungo e ho il terzo quindi andando su personaggio abbiamo dettagli sullo stato e quello che ci danno e per quante secondi le bacche non durano niente la carne 20 minuti 10 minuti il fungo quindi rigenerazione salute insomma è utile le abilità sono molto interessanti perché ci permettono di prendere di seguire un template dall'atleta al barbaro il guerriero il tank piuttosto che un ibrido mago da battaglia guaritore stregone ingannatore assassino ranger maestro delle bestie e così via quindi spendendo i punti livellando potete andare a prendere le varie abilità le potete anche risettare al costo di rune quindi questo è il fuoco che vi fa fare all'inizio del gioco per creare la vostra base la vostra base ha un tot di contorno che adesso qua non non vedo però un 40x40 e adesso in questa modalità non si vede e andando in comunione con la fiamma potete andare a potenziare l'altare prendendo nuclei del manto 80x80x80 potete rafforzare la fiamma un po' le dark souls andando a sacrificare delle cose rafforzando la fiamma ci aumenta la capacità dell'altare il livello di passaggio del manto gli attributi del personaggio e ci aumenterà da 5 a 6 minuti sacrificando queste cose alla fiamma e qua abbiamo spendendo 10 e 1 e ne abbiamo 14 i punti abilità qualora cambiassi media sul nostro template queste sono le basi ovviamente poi non vi ho fatto vedere nulla a livello di in questo caso no non il piccone ma l'accetta qua si va si raccoglie legna e rispetto a Valheim è meno simulativo perché punta più all'avventura e qua arriviamo a un altro punto interessante di questo gioco eh sì l'esplorazione è davvero il fulcro del gioco perché adesso se mi lanciassi di mezzo ci finirà in mezzo senza farmi male perché perché se noi andiamo a in questo caso vedete che ci sono gli artigiani da scoprire qua ce ne sono 5 officine quelle che ho sbloccato finora ce ne sono anche altre eh ci sono i tutorial un'infinità di tutorial informazioni perché poi ci sono un sacco di documenti che potete leggere sulla Lora quindi già tradotto in italiano molto bene ma soprattutto le missioni le missioni sono importanti perché ci sono le missioni principali e secondarie io sono arrivato vicino a una tomba nascosta e ho letto un documento ed è partita questa quest quindi in Gironovo c'è una tomba nascosta e quindi io ho trovato questa tomba qui sono morto poi più volte infatti questi pallini rossi vedete che io sono morto e morire all'inizio è facilissimo se morite perdete tutti gli oggetti che avete qui dentro non vi fa perdere nulla della degli utensili quindi quelli non li perdete però se siete andati nel manto lì a recuperare delle non so delle essenze insomma non ve le recupero fine allora praticamente io adesso ho già sbloccato anche il lampino quindi tecnicamente vedete che col tasto è io vado di là molto plastico come movimento e il ponte all'inizio non lo potete attraversare se non con questo rampino infatti il gioco vi illuminerà il percorso accendendo le torce per scendere attraversare attraverso la nebbia l'altro versante del ponte per poi lasciarvi insomma sapete che qua forse dovrebbe esserci la cosa che invece mi piace meno è che vabbè non ci sono ste grandi mosse di combattimento c'è il parata il perni le varie cose a quanto ho visto non ci sono neanche così tante armi anche se qualcuna dai monstri l'ho recuperata la musica è qualcosa di assolutamente stupendo ogni tanto partono dei pezzi veramente musicali molto belli di immersione adesso qui c'è un po' il pericolo ma quando ero in un luogo tranquillo è partita della musica che ho detto cavoli fatta veramente bene graficamente nulla da dire assolutamente nulla da dire perché è molto bello non mi pare che sia neanche strutturato come lo era Valheim a tier dove per scavare quello ti serve quel materiale che fai col tier prima e così via non mi sembra però avevamo già visto una cosa molto bella che il mondo è totalmente modificabile quindi io posso andare a adesso non mi ricordo così vedete posso andare a scavare e si costruisce anche sottoterra in questo caso e si può scavare penso anche dentro le montagne si possono fare le basi lascia molto spazio alla fantasia soprattutto la fantasia per la costruzione e intanto stiamo recuperando comunque pietra quindi e questa qui praticamente è una zona dove io posso andare vedete qui dovrebbe essere metallo questo dovrei recuperare del metallo anche senza andare di sotto si infatti scarti metallici e l'altra cosa bella che stavo dicendo abbiamo visto nel gameplay a ottobre quando ho portato la demo è che lanciando le bombe il mondo si deforma nel senso che scavate una voragine perché ha lanciato una bomba quello che si stavo dicendo prima perché sei un turbinio di idee di cose da dire questo video non c'è l'arrampicata sarebbe stato un po' discutibile insomma però a volte sembra che voi saltate come fosse un tronco infatti tante volte è talmente velocizzato perché non vuole tediare il gioco ma vuole divertire che a volte vi troverete a non capire cosa state facendo tipo in questo caso quando salterete su giù da una da una rupe così cercate di saltare cercando di prendere il punto in cui il personaggio si aggancia a qualcosa per saltare su ecco credo di aver dato l'idea questo è una miniera che è la prima volta che la trovo e in alto a sinistra vedete anche un po' come succedeva anche su Valheim vi dice lo status in cui vi trovate siamo riposati siamo non siamo al caldo e non siamo comodi perché ovviamente non siamo in casa però stiamo recuperando della selce molto utile è una miniera finita questa credo che una volta finita poi non però è utile per e qua c'è una piccola parte vedete appena entro parte il il timer in alto e una volta finito il timer non è che si perde vita si muore direttamente quindi bisogna fare attenzione come vi dicevo abbattendo alberi all'interno di questa zona non qui ovviamente ma giù nella nella voragine perché questi sono alberi penso in piedi da corrotti da poco tempo non credo che qui mi dia già del legno però mai dire mai perché gli alberi non hanno i rami quando andrete nel in mezzo alla nebbia vediamo subito non credo no manto legno me l'ha dato lo stesso quindi queste qui sono le basi diciamo per avere lì ci sono le api e sentite la musica che bella questa che mi è piaciuta tantissimo mi ricordo anche un po' gothic forse come musica non mi piace tantissimo il questo perché non mi permette di di gestire è solo una una discesa velocissima ma è possibile che esistano altri ehm alianti più veloci upalalai se io faccio il perry al momento giusto lui rimane stordito ok l'ho ucciso ho ottenuto scarti metallici niente di che non me l'aspettavo quello non l'avevo visto vedete che in questo caso se volessi non c'è l'animazione per scavalcare devo saltare come fosse un tronco di legno finché trovo il punto in cui passo e questo è una cosa che non mi piace del gioco le scale invece le fa normalmente e qua finisco direttamente in una tagliola ma va bene come vi dicevo il gioco è cooperativo fino a 16 giocatori potete ostare la partita o acquistare un server comincerò su nitrado è in early access già ampiamente giocabile come dicono gli sviluppatori ci sono già tanti contenuti per tante ore di gioco ovviamente sarà da tenere d'occhio nei prossimi mesi perché potrebbe cambiare tanto però il gioco è molto carino graficamente mi ha sorpreso e mi è piaciuto soprattutto che pubblicizzavano il gioco come disponibile in multilingua anche in italiano non lo era nella demo ma con l'early access è in italiano con anche tanta lore tanti documenti da leggere e trovare in giro quindi è un gioco curato senza ombra di dubbio ovviamente dalla mappa potete teleportarvi a casa quando volete eccetto quando siete all'interno della nebbia allora questo è stato un video recap quando ci sono giochi particolarmente interessanti che hanno un interessante sviluppo ci tengo a fare un video di approfondimento un po' il tema diciamo di quest'anno quello che vorrei un pochino cambiare fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo titolo e alla prossima e ciao ciao